Musica Amici in visione e in ascolto ben ritrovati e ben ritrovati qui chiudiamo con l'antagonista di Andrea Scenier che sarebbe Gerard sulla scena ma invece Alberto Gazzal nella vita di tutti i giorni che ringraziamo tantissimo di essere qui con noi. Metti il microfono per te, ai cantanti dispiace sempre di dire metti il microfono, io lo so che non siete abituati al microfono. Allora Gerard, che personaggio è Gerard? Bello. Beh è un personaggio magnifico perché forse dell'opera è quello che ha più cambiamenti veramente notevoli, c'è un grande cambio fra la prima parte in cui è come se fossero due personaggi diversi, uno ancora nella tradizione... Anzi è il regime proprio su parte che è ancora il cameriere. E quindi c'è come dire il subire in una società composta nella quale lui vive, si ritrova in una condizione però già in cui sente la ribellione interna è uno che è infatti molto carino, non è un'idea unica ma la prima visione che noi abbiamo di Gerard è con un libro in mano che a dimostrare, diciamo lui è un servitore sostanzialmente figlio di servitore di generazione e si ritrova però ad avere questa pulsione interna per l'area della rivoluzione francese. Ha una coscienza sociale, si direbbe in termini di modello. Quindi è uno che è assolutamente immerso nel momento storico, tanto poi da diventare un capopopolo, un leader. Lo ritroveremo già nel secondo quale. Però già in questo primo atto si sente proprio il giorno della ribellione, quindi lui ha la sua attività normale di servitore ma dobbiamo capire sin da subito che dentro il suo cuore bolle qualcosa di veramente terribile. E illica mette però già una prima spia invece che è l'amore, c'è questo piccolo cedimento in cui si capisce che tant'è nei confronti... E questo credo sia l'aspetto più interessante, cioè che contemporaneamente a una storia di tipo politico si svolge una storia di tipo amoroso e come sempre l'aspetto amoroso finisce poi per compromettere persino l'ascesa politica del leader. E quindi questo è un aspetto, devo dire, molto chiaro nel libretto e molto ben rappresentato dall'opera. E quindi c'è questo cambio a un certo punto, proprio alla fine del primo atto, quando c'è questa ribellione verso questo... Fa entrare i miserabili. Fa entrare i miserabili e poi molto interessante la seconda parte dove lui praticamente viene corrotto poi dalla... sia un po' dalla politica e anche e soprattutto da questo discorso dell'amore che lo porta a fare dei compromessi e questo credo sia l'aspetto più interessante del ruolo. Mentre gli altri ruoli sono molto, tutto sommato, molto lineari. Sì, 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 assolutamente. Amore e morte, chiaramente, proprio Eros et Thanatos, ma invece Gerardo è proprio quello. Fra l'altro c'è un bellissimo parallelo, secondo me ne parlavamo prima con Gianpaolo Bisanti. In realtà l'accoppiata Scarpia-Tosca viene quasi a rivivere nel terzo quadro. Assolutamente. Però con proprio le differenze, qui abbiamo una persona, lì avevamo un essere spreggevole che è Scarpia, che viene fermato dalla morte, in realtà viene ammazzato. Qui invece nel momento in cui lei si concede, è lui a cedere. Infatti, anche se la situazione è uguale. È simile, molto simile. Però è uguale dal punto di vista emotivo, ma non uguale dal punto di vista del personaggio. Perché lui, non dimentichiamoci che alla fine, invece del secondo atto, quando viene ferito a morte da Chenier, ignoto, proteggi Maddalena. Questa è una frase molto importante che lui dice, è stato sconfitto, diciamo. Pensa di morire, eppure si preoccupa che Maddalena abbia una vita felice. Viaggia un po' sempre su questi due binari, no? Quello della gelosia che ogni tanto riemerge, è quello invece di una sana bontà di principi di fondo, direi. Tant'è vero che sicuramente questo personaggio di tanti cattivi che mi è dato interpretare, o di tanti cornuti, questo curiosamente non è né cornuto né cattivo. Né cattivo, sì, se andiamo a vedere il personaggio complesso. E non solo, ma poi ha un ruolo baritonale, spesso ci troviamo a interpretare dei personaggi comunque nella pienissima maturità, invece tutto sommato Gerard è un giovane, pieno di pulsione, proprio rivoluzionaria, pieno d'amore. Io personalmente è un ruolo che ho sempre fatto con grande, grande, grande piacere, perché dal punto di vista anche interpretativo, diciamo che non hai dei filtri, è molto naturale, a parte il fatto che siamo ovviamente in un clima puro, di verismo, quindi laddove la recitazione non deve essere assolutamente... non ha bisogno di nessuno rappello. Non non ha bisogno di pensare a niente perché siamo già abbastanza estremizzati nel contesto. È tutto scritto, è tutto descritto nei minimi dettagli. Va bene così, noi c'abbiamo Illy che è dietro, sono proprio un libertista. Assolutamente, infatti non a caso, diciamo, forse Giordano proprio con quest'opera che è tutto sommato è la terza dopo un paio di mezzi, perché poi musica brutta lui non riusciva a scriverla. Ma no, ma più che altro il fiasco poi non è semplice, ci sono i misi di clamorosi, i fiaschi di opere famosissime, è come l'aveva presa al pubblico in quel momento. Sì, però questo sicuramente è la sua consacrazione, ma addirittura da quello che sono riuscito a leggere nel tempo, addirittura Son Zogno l'aveva licenziato assolutamente e non voleva rappresentare quest'opera. Ma definiva inascoltabile? Io penso che lo scenino non l'avesse neanche analizzato, ma lui probabilmente vedeva che non era un artista di grande successo e ci fu addirittura l'intervento di Mascagni. Sì, sì, che si impose a posto di verismo. Sì, sì, per suggerire proprio la... Mi viene da dire a me adesso, nella mia meschinità, una motivazione potrebbe essere che non è un'opera con aria estremamente orecchiabile. Sono tutte aria che sembrano quasi cinematografiche, significano molto. Forse proprio a parte Nemico della Patria, che in realtà è l'eat single tuo, diciamo. Sì, ma anche perché è molto celebre, perché se no se ci pensiamo anche il Nemico della Patria è un recitativo... Sì, è comunque tipico. È un recitativo molto adrente, dove non ci sono delle grandi... È la stessa La Mamma Morta, che adesso è tanto famosa per Filadelfia. È un racconto dove succede un sacco di cose, non è che dici beh adesso me la canticchio, no? Tant'è vero che nessuna di queste, tutto sommato, è un'aria chiusa, se vogliamo vederla proprio dal punto di vista formale. Viceversa però vediamo che si bisogna per forza interrompere, perché c'è comunque un'empatia immediata che si crea col pubblico. Che questa è una cosa... Cioè, generalmente è il pubblico che ti interrompe per giunta, nel senso che sono quasi tutte le aree che effettivamente... Un po' per la particolare difficoltà, soprattutto quelle del tenore, dove fanno estremamente scena... Quella di tutti, devo dire, perché comunque la scrittura diventa veramente importante dal punto di vista orchestrale. Quindi è chiaro che non tutte le voci possono sopportare questo tipo di scrittura. Il difetto proprio dello scenier è che chiama voci importanti e uno ha sempre le dizioni di riferimento poi di gente importante. Tutte la vedi con Cappucilli, che non so voglio dire, ci sono sempre dei precedenti. Beh ma non solo, è di avantiare la cena delle beffe alla scala, no? Che poi si è potuto vedere che quanto queste opere, che tutto sommato, sono finite in una specie di piccolo dimenticatoio. Sì, considerate di seconda fila. E invece è proprio... ma ci sono tante opere anche dello stesso periodo, penso all'Isabò, di Mascagni o altre opere molto importanti. O il Guglielmo Raticlisi, che io ho avuto anche la fortuna di interpretare. Sì, ma sono tutte opere che hanno avuto un po' poca fortuna per la difficoltà a riparire proprio le voci. Il materiale umano. Diciamo, Scenier forse si è salvato perché è talmente bella che... È l'opera di Giordano sicuramente più un cartellone, no? Assolutamente sì. Sono quelli che si dicono gli autori, one shot man, quelli, l'Adriana di Cilea per Giordano, questa, e un po' Fedora anche, devo dire. Assolutamente sì, infatti lui si riconfermerà. Sì, sì, è una doppietta. Che riuscire a fare in quel periodo. Ma come dicevamo l'altra volta in un incontro passato, senza telecamere, lì purtroppo la luce abbagliante di Puccini in quel periodo ha gettato ombra su tanti compositori, penso a Catalani, penso a Giordano, e che avrebbero meritato probabilmente molto di più. Invece lui, non so se ha avuto... sì, beh, è stato effettivamente, ricordo, un grande pressagent di Puccini anche, voglio dire. È stato spinto anche bene pubblicitariamente, era un genio assolutamente. Ma io penso che poi la difficoltà in quel periodo fosse, al di là di tutto, che mentre nel periodo, diciamo, verdiano, centrale, o comunque del romanticismo, c'era una maniera di fare le opere, forse dava già, ti costruiva già il 60% dell'opera. Per cui si aveva due o tre guizzi di ispirazione proprio melodica e riapposto. Qui invece ogni frase non può essere una linea melodica, sì che ci sono dei late motive anche qua, però non se ne può neanche abusare. Quindi per questi inventare due ore di musica tutta ispirata non era facile. Siamo nel 96, quindi siamo per scollinare il secolo, quindi è quasi un finale di partita per l'opera lirica italiana di quel periodo. Purtroppo. E pare che molti dicono che quando arriva il cinema sonoro in realtà è la vera, è il momento in cui la gente arriverà a piangere, va al cinema e smette di andare all'opera. Però il sonoro è già nel 24-25, per cui ancora ci sono vent'anni di buono. Ma non credo, io penso piuttosto che questi compositori, Giordano compreso, abbiano proprio sentito questa direzione verso il cinema, quindi una rappresentazione molto, anche piuttosto naturalistica, della rappresentazione senza maniere, senza... Però questo non si è stato colto fino in fondo, perché si è entrati in un campo di sperimentazione, che già, per esempio, anche in Giordano, noi vediamo che c'è comunque anche in un'opera molto destinata al pubblico e si sente. Tradizionale. Sì, però ci sono delle sperimentazioni, forse Giampaolo, sicuramente, il maestro Bisatti, ha parlato di questa cosa che è scritta tutta senza alterazione, in chiave. Ed è una cosa molto curiosa. È una cosa tipica della tonalità, fra l'altro. Appunto, appunto. E Giordano, tra l'altro, non aveva motivo di fare una... Alte tonalissime, però non vogliamo spaventare nessuno, tranquilli. E non aveva forse motivo Giordano di fare un'operazione di questo tipo, se non... Però un elemento che ci fa capire che questi compositori di questo periodo avevano già il senso della storia, e quindi di voler fare delle cose che potessero, in qualche maniera, portare avanti un discorso filosofico, anche filosofico-artistico. Siamo alla vicina del Novecento, sta per cambiare un sacco di roba. Secondo me si sente piuttosto... Precisamente, è lo stesso anno, in realtà è lo stesso anno di Bohème, anzi un mese di differenza. Infatti, io penso che non abbia niente da... Da invidiare, dici? No, no, ma... Adoro, devo dire, questo periodo in generale, devo dire che forse sarebbe anche... Io sarei molto felice se ci fosse veramente uno sforzo, magari non tutte da rappresentare, con scene, costumi, che forse sono operazioni molto costose, però sicuramente... Sì, esatto, presentare se durante le stagioni concertistiche si ritirassero fuori dei bellissimi spartiti, che sono veramente, purtroppo... Un po' del dimenticatore. Un pochino, e devo dire che poi c'è talmente teatralità nel discorso musicale, che quasi il discorso scenico diviene quasi secondario. Sì, esatto. Non lo dico con molta attenzione, perché so che non è così. Però se noi tiriamo fuori una composizione, ti posso dire, di respichi o di altri del periodo... Anche ricordo qua, un amico frizzo fatto in forma di concerto che funzionava benissimo. Funzionava, funzionava perfettamente. Quindi potrebbe essere magari anche un'idea, quella di sentirlo... Lanciamo, lanciamo questa idea in questo. Io devo dire che lo faccio proprio con molta forza, questo. A questo punto, questo è un pennarello. E ti preghiamo, in conclusione di questo incontro, di cui ti ringraziamo tantissimo, di autografarci, dovunque tu trovi. Quale onore, guarda. Bisogna vedere se sono stati discreti quelli di prima. Eh, ma vedo dei nomi giganti. Vabbè, Giordani in proporzione alla mole... Eh, guarda, qualcuno ha scritto più grande di Andrea Scenieri. Di Andrea Scenieri. Allora, non c'è più posto. Ma scherzo, eh. Metto qua. Era Gianpaolo Bisanti, eh, però. Guarda come sono discreto, eh. Bravissimo. Grazie mille di aver trovato pazienza e tempo per esserci venuto a trovare. A te. E un saluto a tutti. Grazie mille di aver guardato.